Amici di Le Fonti TV, rieccoci per una nuova pillola formativa e informativa che mette insieme sport ed economia. In questa puntata parleremo di merchandising e potremo utilizzare questa espressione, storia di un amore mai nato, quello tra il merchandising e la serie A, che dalla vendita di magliette, sciarpe, gadget vari, ricava molto meno rispetto agli altri club europei. Infatti se prendiamo ad esempio Manchester United, Barcellona, Real Madrid, il confronto è impietoso e lo dicono i numeri. La Premier è sicuramente la Lega che sfrutta meglio e sfrutta in maniera più evidente i ricavi dalle vendite commerciali intorno al 20%, mentre l'Italia si attesta solamente intorno al 6%, e poi abbiamo una speciale classifica che vedete ora in sovraimpressione, la classifica relativa alle magliette vendute. La stagione di riferimento è la 2018-2019, non abbiamo preso in esame l'ultima funestata purtroppo dalla pandemia di coronavirus. Vediamo in testa a questa classifica il Manchester United con circa 5 milioni di magliette piazzate sul mercato, al secondo posto un'altra inglese, ovvero il Liverpool, poi via via scorrendo la classifica possiamo notare club della Liga, Real Madrid, Barcellona, la Germania rappresentata dal Bayern di Monaco, dal Borussia Dortmund, c'è anche la Francia con il Paris Saint-Germain, mentre chiude fanalino di coda al decimo posto la Juventus unica rappresentante italiana con circa 1 milione e 300 mila maglie vendute e ovviamente in questo dato va considerato anche sempre l'effetto traino di Cristiano Ronaldo, ma al di là dei numeri che fotografano già la situazione e danno un quadro insomma abbastanza chiaro, possiamo renderci conto della identificazione tra i tifosi e i top club europei anche diciamo così a occhio nudo, perché quando vediamo inquadrati negli stadi i tifosi di Real Madrid, Barcellona, Manchester United, ma anche semplicemente Borussia Dortmund o Atletico Madrid, li vediamo sempre con indosso una maglietta, una sciarpa, perché indossare quella maglia e quella sciarpa significa identificarsi a pieno con il club, con la sua storia, condividerne i valori, la tradizione, i colori. Ecco tutto questo succede meno in Italia e noi ci chiediamo il perché, ma soprattutto lo chiediamo all'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero il direttore Giancarlo Padovan, editorialista di Sky Sport. Grazie innanzitutto Giancarlo per essere tornato qui ospite alle Fonti TV. Grazie a te Valentina, un piacere per me, spero sia un piacere anche per voi, ma credo di sì e sono pronto a rispondere alla domanda che è una domanda che ci poniamo da molti anni. Io sono solito dire che è un problema di cultura, cioè che culturalmente l'Italia non è ancora arrivata a questo tipo di coinvolgimento, cioè il coinvolgimento feticistico o feticista della maglia, della sciarpa e del berrettino, che l'abbiamo ma non ce l'abbiamo in maniera totale, non ce l'abbiamo in maniera a quanto ce l'hanno gli altri club. Quindi credo che sia un problema culturale, perché per esempio, faccio un esempio che mi viene da fare spesso, i ragazzi, i ragazzini, gli adolescenti, ma anche le persone adulte, qualche volta vanno al lavoro, vanno a scuola, vanno a lavoro con la maglia del club, se il club ha vinto una partita importante, se ha fatto qualcosa di rilevante. Da noi l'idea di andare a scuola con una maglia che sia del Milan, dell'Inter, della Juve, del Napoli, della Roma, è assolutamente peregrina. Io credo che qualche preside magari rimanderebbe a casa l'alunno, di sicuro qualche capo ufficio rimanderebbe a casa il dipendente e quindi io credo che non ci sia da questo punto di vista cultura. Poi credo che incidano anche i prezzi. I prezzi sono particolarmente elevati, è vero che sono elevati in tutta Europa, però credo che il milione e passa di magliette che vende la Juve le venga più all'estero di quanto non le venda in Italia, perché in Italia noi siamo tifosi legati ai colori ma non amiamo del tutto metterceli addosso. Ripeto, c'è un problema di cultura, c'è un problema economico, cioè non stiamo vivendo tempi in cui oltre all'abbonamento o al biglietto ci si possa acquistare la maglia. La maglia poi cambia di anno in anno, la ragione per cui ogni anno bisognerebbe fare un piccolo grande investimento su questi indumenti di gioco. Sì Giancarlo, hai parlato esattamente dei prezzi piuttosto alti e te lo confermo perché ci sono dei dati a testimoniarlo. In Italia il prezzo medio di una maglietta ufficiale è di 71,40 euro contro i 48,80 euro della Premier League. Non dobbiamo poi dimenticare anche il fenomeno della contraffazione perché all'esterno degli Stati italiani troviamo più bancarelle che vendono delle maglie non ufficiali a prezzi decisamente inferiori, 10 o 20 euro. Hai parlato anche di tradizione, giustamente di cultura e poi anche diciamo l'usanza dei club, soprattutto della Serie A, di affidarsi più che ai ricavi del merchandising, soprattutto ai ricavi dei diritti televisivi. Ma non è pericoloso perseguire solo questa strada? Sì, è estremamente pericoloso. Quantunque la rappresentazione che hai fatto tu delle ragioni sia assolutamente coinvolgente, cioè i prezzi, i costi delle magliette che sono superiori in Italia rispetto che all'estero, la disabitudine a fare questo tipo di investimento, i costi dei biglietti che sono molto alti e quindi tra un biglietto e la maglietta magari si sceglie il biglietto o l'abbonamento. Però l'Italia, come dici tu, deve fare un investimento sulla diffusione del merchandising perché il merchandising è la seconda fonte, almeno per quanto riguarda i club più importanti, di introito. E quindi se non si lavora in questa direzione col marketing e col senso di appartenenza, con un investimento anche di comunicazione, certamente le squadre italiane saranno penalizzate nel fatturato, perché ora il fatturato dei club italiani è costituito, come hai detto tu, soprattutto dai diritti televisivi, ma i diritti televisivi sono in contrazione, non sono in espansione e quindi io credo che sia già suonata la campanella d'allarme per quanto riguarda questo aspetto, cioè bisogna trovare via alternative ai diritti televisivi. Il merchandising non è, però evidentemente o dobbiamo assoldare qualche esperto dall'estero che ci conduca lungo le vie, i canali che portano alla vendita del merchandising, delle magliette, dei calzoncini, dei berrettini, dei calzettoni, della sciarpa, oppure studiamolo un sistema perché non è più rinviabile questo studio e questa ragione per andare fino in fondo a reperire altro danaro. Sì, essere penalizzati nel merchandising, come hai giustamente detto, significa essere anche penalizzati poi a livello di competitività europea e visto che noi allora il merchandising lo vogliamo incrementare, vogliamo far tornare insomma i tifosi a spendere anche per le magliette, le sciarpe gadget, come abbiamo detto, presentiamo qui insieme a te le nuove maglie, quelle della stagione 2020 e 2021, le maglie presentate da Juventus, Milan e Inter. Ovviamente Giancarlo voglio da te un commento, un giudizio e poi anche un voto, a partire da quella dei campioni d'Italia, la possiamo vedere, ecco una maglia che definirei artistica con queste pennellate di nero su fondo bianco e poi anche degli intarsi in oro, quindi una maglia che coniuga contemporaneità, arte e però anche tradizione ed eleganza. Ecco, la vediamo poi indossata anche da Sara Gama, testimonia naturalmente Cristiano Ronaldo, anche Di Bala, sarà la maglia del decimo scudetto consecutivo della Juventus, Giancarlo? Non lo so, prima o poi i grandi numeri spezzano queste serie infinite, quindi non mi azzardo a dire se lo sarà, magari no, però la maglia è bella, la maglia è molto bella, elegante come dici tu, c'è il ritorno alle strisce, che è un ritorno che io approvo perché sono tradizionalista in questo senso e quindi mi piace e come voto le do 8. 8, voto decisamente alto, vediamo se sei altrettanto generoso con la nuova maglia del Milan, qui ripropone il Milan le classiche bande rosse e nere ma c'è un disegno, una trama architettonica che si ispira addirittura alla Galleria Vittorio Emanuele, quindi un omaggio non solo al calcio ma anche alla città Milano, città della moda del design. Tra i modelli scelti dal Milan, Lucas Biglia ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic, l'eterno Peter Pan o meglio il Benjamin Button della Serie A come lui stesso si è definito, un Ibrahimovic che è sempre più vicino tra l'altro al rinnovo contrattuale, potrebbe giocare in Serie A fino ai 40 anni, voto alla maglia del Milan e voto a Ibra. Voto la maglia del Milan, 8, è una maglia che mi piace, è molto bella, ritorna non alla tradizione ma perché la tradizione sarebbe quella di adesso, cioè quella con le righine strette, però è una maglia che mi piace, è una maglia con delle idee, complessivamente devo dire che le maglie stanno migliorando, 8 alla maglia del Milan, 8 alla maglia della Juve, voto a Ibrahimovic 9 perché la perfezione non esiste ma lui la sfiora. Ecco e diciamo anche che proprio la maglia del Milan della prossima stagione ha registrato in termini di merchandising un incremento addirittura del 1700%, quindi l'effetto è già visibile. Chiudiamo con l'Inter, abbiamo qua un tris di maglie, ovvero, anzi visto che citiamo i colori nerazzurri magari dovrei dire un triplete di maglie, partiamo dall'ultima, la terza maglia e ci troviamo di fronte a un chiaro omage alla stagione 97-98, la prima di Ronaldo in Italia culminata con la vittoria della Coppa UEFA a Parigi contro la Lazio, quindi diciamo un auspicio, un buon auspicio così per i tifosi nerazzurri, mentre la prima maglia, ecco la maglia a zigzag, è stato scelto questo motivo che però non è del tutto originale perché anche qui abbiamo un precedente storico, stagione 2010-2011, la prima post triplete, anche quella comunque è una stagione tutto sommato positiva con la conquista del mondiale per club dall'allora squadra guidata da Rafa Benitez. Però prima di chiederti un giudizio sulla maglia dell'Inter che tra l'altro abbiamo già visto indossata dai giocatori ti faccio la domanda delle 100 pistole, ovvero la maglia dell'Inter 2020-2021, quante probabilità di essere indossata da Leo Messi? Probabilità che venga indossata da Leo Messi 1 su 100, quindi poche, pochissime, per non dire nessuna. La maglia è una maglia bella che mi piace, coraggiosa, innovativa anche se non inedita come hai detto tu, voto 8,5 perché ha avuto il coraggio di spezzare la linea verticale, di riproporre una maglia che ha portato tutto sommato, fortuna che ha portato bene, dico anche che potrebbe essere la maglia dello scudetto prossimo venturo dell'Inter. Sì, lo sappiamo che tu avevi già pronosticato tra l'altro quest'anno lo scudetto ai nerazzurri come di solito capita ad Antonio Conte nella prima annata, questa volta non è andata così, si è riconfermata la Juventus per la nona volta consecutiva, ma come hai detto tu, vediamo, le strisce sono anche fatte per essere interrotte. Giancarlo, io ti ringrazio come sempre infinitamente per la tua disponibilità e per essere intervenuto qui alle fonti TV, grazie. Sono io che ringrazio voi e spero di risentirci e arrivederci presto. A presto Giancarlo, quindi siamo in chiusura di questa nostra pillola formativa e informativa che coniuga sport ed economia, ce ne saranno altre ovviamente sempre qui sulle fonti TV, voi non mancate.